Oh eccoci qua ragazzi, niente ragazzi dobbiamo cercare di avere un po' di fiducia con i Pyke perché qua non finisce bene Vediamo un po' Wow poi c'è una cinematica vera e propria Vediamo un po' C'è una situazione delicata C'è un agente di Cremson Don che si trattavano sull'occhi con il comlink che si trattavano questo piccolo C'è un po' 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 troviamo il traditore, eh cazzo avete sentito il traditore che è della... Allora, abbiamo... Ah beh, pirati, ok, e recupererei... Allora... Ah, ma questi, aspetta, chi erano questi? Alto rischio, hai un solo tentativo, figurati. Molto interessante, questo è invece... Ma posso fare una domanda, aspetta, se non mi diverso... Ah, loro sono... Ah, uh, uh, hai capito chi sono? Ah, 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 furbacchioni... Ok, mi converrebbe aumentare un po' l'oro... Anche l'oro, perché non è una buona situazione... Però è interessante, lei è una via di mezzo... E poi... Cosa molto divertente... Lo posso fare, perché io posso andare a esplorare già là... Cioè, io posso andare già lì senza problemi, complessivamente parlando... Ovvio... Questo però, mi conviene, fa... Prima questi qui... Eh, sì... Anche questo, alto rischio, eh... Alto rischio, un solo... Ok, guarda quanto sale questi qua... Quindi questi qua, sicuro... Mi conviene... Ah, beh, sì, è ovvio... Ok... Non è il grande lavoro che stiamo cercando... Ma funziona... Sono un po' indeciso... Allora... Sì, sono indeciso di da parte... Allora... Andiamo con calma... La prima missione che devo fare... E' questa qui... Il traditore... Poi... Cioè, Duncan l'abbiamo già fatto... Ehm... Ah, non ho scelto la sua, è vero... Ehm... Perché lei va un po' con tutti... Anche lei... Mi li devo accettare tutti? Li devo accettare, secondo me... Ma è giusto per avere a portate in mano un po' di missioni qua e di là... Ehm... 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 Ok, Ves... Il primo e solo... Ok, forse perché già ce l'ho... Vabbè... Andiamo prima a risolvere il problema qui... E che devo solo individuare il ladruncolo che scommetto... Lo metto... Però che è dall'altra parte... E ho appena sbagliato strada... Sta qua... Stomp 2 pro... Scommetto che si trapuzza... Ehm... 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 Sì! Ehm... 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 Tu... Ehm... ecco con buongia con elle la excited held p qui vu vie sure ир can È un bambino, tranqui. anche se a sto punto prima di e 9 che dovrei entrare nell'area riservata anche se a sto punto con l'equipaggiamento io adoro troppo questo buono vabbè ci dobbiamo magari aspetto possiamo modificare no peccato ragazzi ok here we go comunque tanta roba dai non mi posso odio non mi posso lamentare in certo caso ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, eccolo. Ora vediamo che succede. Ci entra. C'è entrato a culo praticamente. C'è entrato a culo. All right. Come on, Nyx. Wine and Tislac shouldn't take long. Maybe the bartender knows something. All right. Hi. Stavo guardando se potevo potenziare qualcosa. Signore. Bello l'ambientazione Comunque ragazzi Ambientazione al fine Comunque ragazzi 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 C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. Non posso accettare, ma perché secondo me sono troppo limitato, poca esperienza. C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. Qua ce la rischiamo. C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. C'è un lavoro che potrebbe essere di interesse a un uomo come tu. Ok. 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 Ciao! Scordatolo, mi dispiace, ma... Ha 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 ha, scordatolo, mi dispiace. Go! Watch out! Oh no! Hey! Go hide me! Go! Thanks, Nix. Don't call anyone else. We can do this nice and easy, okay? Yeah, yeah. You know, my plan was more than some trip to the casino. I had an entire operation ready, from fixing sabacc games to weighted chance cubes. It would've made a fortune. You think you're the first person to dream about beating the house? You would not understand the intricacies of what I had planned. Mm-hmm. I'm sure. Troide! Eh, muoviti. Già quelli mi stanno alla gola, quindi ci tocca. All right, don't make yourself too comfortable. I will not. Tismag is under animal protection. Not anymore. They won't be giving us any more trouble. I hope you're ready to go see Bora! Figo! Eh, cara mia, paziente che è successo. Oh, però tu hai capito che con i Pyke è un grosso problema. Non sei tenuto a farlo. Eh, purtroppo, la mia reputazione con i Pyke è molto brutta. Se non me la tolgo dai piedi, me la gioco male. E poi, non voglio dire nulla, ma... Ho un sacco di missioni con i Pyke è molto brutta. Ho un sacco di missioni con i Pyke è molto brutta. Lo dirò la verità, era molto carino. Ehm... Molti si sono lamentato il fatto che... Eh, vabbè, però sono tutti ripetitivi. Devi starci dietro a un personaggio che si sposta o devi seguire. Beh, signori, dovete vedere il resto della narrazione. Non è che dovete stare appresso alla dinamica solo del gioco. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hey, tu. Oof, I know that luck. I grew up around casinos. It's okay to call it quits, you know. I'm gonna turn my luck around. I just need some credits. We'll split the winnings. Honest. Here, I know what it's like to be down on your luck. Thanks. Come back later. You won't regret it. Un po' mi dispiace, ragazzi. Io ci ritengo queste cose. Sono una brava persona. Sono una doppia piccola. Comunque è sfiziosa questa cosa. Dai. Comunque è traditore, quindi complessivamente è un problema se stavo sgamato. C'è un traditore del clan, quindi... Quelli cremi si lo dovrebbero capire. You're back. Assume you took care of my problem? Uh, yeah, yeah. And I got him on my ship. His name's Tislak Shahr. Tislak, I should have known. It's just like him plotting against me for something so pathetic. I'll send someone to collect him. Now, be on your way. È calato a tre, tantissime. È calato moltissimo, eh? Scarsa. Lo so che è scarsa. Però, 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 però. Signori. Ci siamo un po' ristabilizzati. Guardate il cattivi con i pike, come siamo messi. Eh, rendiamoci conto come siamo messi male. Vabbè. Ok. Abbiamo lei. Abbiamo questo coso. Eh, ok. Mondi. Eh, ancora questo. Minchia. Comunque questo stiamo scoprendo. Il mondo proprio. Ok. Tutorial. Ah, devo fare il coso del tutorial. Ok. Era giusto per toglierlo. Oh. Ah, vedi? Questo è quello che ho avuto oggi. Ah, ok. Ah, devo. Questo non lo posso accettare. Però, reputazione X buono. Non lo posso fare. Però posso fare... Però vedete, viaggio rapido vietato. Però... Vedete come mi aumenta questo? Quindi mi conviene fare uno dei due. E poi vado a fare questo. Quindi ci ho detto tutte e due in zona. Dai. Eh... Eh, sì. Così recupero velocemente l'amicizia. Ok, scusatemi. Scusatemi. Eh, mi è avuto un attacco. No, la missione qui... Lo faccio magari dopo. Eh, ragazzi. Mi tocca purtroppo... Fare un po' di missioncine. Come Dio comanda. Eh, sì. Eh, per forza. Bene. Andiamo qua. Cioè, ci possiamo andare. Beh. Beh, in realtà potremmo fare ancora una cosa, dai. Però dobbiamo uscire per di qua. E uscire. Quindi... Bello che sono due modelli completamente diversi. Minchia che l'ha buttato male. Vabbè, ah, sì. Allora. A parte evitare il territorio. Noi dobbiamo arrivare all'incrocio qui. Eh, sì. Questo è un territorio piccolo. Quindi non credo che abbiamo i pike. Qua non lo so. Tanto pure che potrebbe essere... E gli atti. Però lo scopriamo. Ecco. Let's go! Eeeh, colà! Oh, ci siamo arrivati. Ok, um... Ok, mostrate il diario. Che dobbiamo fare? No, non siete voi. No, non credo che ci parla lui. C'è qualcuno lì sopra? No, non mi sembra. E come faccio? Oh! Ah, vaffanculo. Beh, era pure nascosto, però, eh. Let's go, buddy. Eh. Time to go, Nix. Ah-ha. Ah-ha. Mm. Ok. Non so cosa è successo prima, ma ok. Eh, ora devo portare sto coso. Ah, ok. Vabbè. Ah, mi tocca, fa tutta la strada principale. Vabbè, ci ho sperato. Allora, che faccio, affanculo, ciao. Allora, di nuovo vi saluto a tutte. È stato bellissimo. Vi devo infastidire? Sì, vi devo infastidire tantissimo. Vabbè, non vuoi fare qualcosa di altro? No! Ok, andato. Potrei andare molto peggio. E invece è andato ancora peggio. Ancora più peggio. Siamo troppo rapido, Nix. E' vero, non ci hanno poco capito dov'era. Penso a me dove è dov'è. No, è dall'altra parte. Vabbè, vado a piedi. Ok, muoviamoci. Eh, quest'area non è che l'ho vista prima, eh. Ah, l'altra parte è about to change. Ah. Sì, che avessi venuto, ok? Sendo le vostre crediti. Guardate qui. Siamo andando qui. Bene, è tornata buona. Questa è la cosa migliore. Bene. Altre missioni. Ehm... Buono. Ok. Wow, mi vanno a vedere... Ehm... 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 There is much to be done. Però quello che mi interessa a me adesso è un altro. Ah, devo ancora fare questo per... Vabbè ragazzi, però credo che questo lo faremo al prossimo video però. perché dovremmo andare... Perché dovremmo andare... Ah, qui. Ok. Eh sì, dobbiamo fare la missione... I suoi specialista per fare questa cosa di dati. Qua siamo ancora cattiva. Ma se ci facciamo buoni... Ma se ci facciamo buoni... Siamo più tranquilli... Dopo a girare un solare... Dobbiamo fare per forza qui. Anche se... Questa è l'unica cosa che dobbiamo fare... Che non è facile. I banditi... I banditi... I banditi... I banditi... I banditi... Eh ma i banditi chi sono? Eh vedi... Effettivamente credo... Che è tosta. Eh abbiamo anche questo. Eh tecnicamente sarebbe prima questo. Va bene ragazzi. Mo ci regola di conseguenza. Qui del 38. Al prossimo video. Passo e chiudere. Beh ragazzi.